Oh raga dove stavamo noi? Potete lettarne uno col cecco Pusciamone così Uno lo lettate col cecco e uno con la mitra Nessuno Dai da dove? Non è stato uno con la mitra Ok Oh uno Aterra uno Vai fatti raga Raga può un po' blu qui sopra Brava vieni qua Brava vieni qua Ti ho insegnato Merda raga ma l'ho provato a ciocchino Oh ma con me ce l'hanno tutti sti amici Oh strano Venite da me 1-25 Blu raga vedete il craccio che avete Così magari vi sto dittarne uno Eh no ma se lo devi stare rafforzati da solo perché uno si può fare No in realtà non l'hai fatta perché l'altro se lo devi stare a te perché il coppazio stesso è solo una volta si può fare In due partite Oh bravo volete un po' di Venite da me venite da me Ssshh Mi vai Gitti raga Si A terra uno Oh bravo Andate là Io me li ho lasciati là Mi sto prendendo Raga aiuto Che sto parlando il shield Oh vai me lo faccio 60 Raga mi sa che sta qualcuno l'ho 105 a 1 Oh mi avete stilato una kill bellissima Oh no raga lasciatemi qua Per favore non è stato un botto Oh go A terra Oh ragazzi qualcuno va qua A terra Terminato No in realtà se giocattoli faccio ogni volta se mi concentro però Raga qualcuno dietro Dietro con il palloncino Sinistro Raga Ittato 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 Oh ragazzi Guarda la gaffe Da Dove stai Atterra Poi ti do un po' di Po' di Ma stavo facendo E' tutto William l'ha ucciso quello col quad Eh no Io ho ucciso quello col quad Ho ucciso quello che fa il palloncino Ah quello sul quad Si l'ho ucciso Si sta là Se vuoi prendetelo voi Io ce l'ho detta Plani Ma io vado Sto già camminando Ragazzi Scusate Oh il quad Il quad Il quad Il quad Ragazzi Il quad Ma io vado State dietro almeno Aspetta 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 Si tanto non batta Si 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 tanto Ce l'ho Ce l'ho Ragazzi Ho 4 cellini Anche Mi pisse Pagli Ragazzi Amici Da me No Stavano dietro col quad Però 7 E' il brutto Che là c'era un palo Tra Vabbè C'è stato Però no Era fuori qui Ragazzi Stavano arrivando Ah ma siete voi col quad È vero Ho detto Ragazzi Stavano arrivando Le amici Da dietro Col quad Tra Andiamo No Ce l'ho 4 Ce l'ho 4 Poi qua c'è L'altro loot Ragazzi Amici Aiuto Comunque Ti stavo dicendo Non c'è Io Sono da gioco bene Riesco a fare Riesco a fare Tutte queste partite Così Però il fatto La concentrazione Mi serve La concentrazione Per fare Ste partite Così Comunque Ho capito Francia Così Francia Comunque Ho capito Cioè Io Se mi concentro Riesco a farle Sempre Ste giocate Il fatto Che ho Sette amici Che Tipo Tu lo vedi Ogni partita Che giochi con me Ti mi ritrovi Sempre Ho con 6 Chilo Ho con 8 Posso chiedervi Una cosa Cosa Eh 30 Ma mi servono Che la dico 30 Mi servono Ragazzi Sono qui sopra Perciò Ci facciamo cadere Tutto Magari Aia L'ho Pegliato I headshot Ma sei a terra William No Mi ha nettato No Fai un'alcina Un'alcina O' Uno Che non ho Masso A terrello Però Vabbè Qua Prà Va Dietro 66 66 18 Un Qui dentro Raga Io ho 30 Di vita Ok 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 Loro Stavo cercando di spaccare sopra questo ora d'aspettato se piacere mi coprite mi coprite che c'è 30 di vita ragazzi anche col quad non ho provato a cerchionare non so direva ragazzi mi hanno sparato col pompa a terra fatti 2 dove sta e bromi di dove sta però ah eccolo eccolo è qua vicino ma che c'è qualche nemico no è un bug fra chi l'ha presa la casca fra io non vedo dove sta la casca ah eccolo eccolo sto andando sto andando vedo se riesci a andare tu che a me l'intero non ce l'avevo toccato e raga scusate e lo so e no se non mi curo eh William eh se vuoi vai se non mi curo a me sta la la scuola però prendi la prima quella che fa prendi pure la mia William a me sta la scuola qua sono morti due persone eh si però fra ti fai quello che vuoi no 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 non è quello che vuoi no no non è quello il fatto perchè poi se fa a a te tu hai tempo che stanno andando capito no no poi no 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 le picchievi si hanno lasciato il cuore fa tutte e due ah fa tutte e due ah fa tutte e due raga voi ci ha portato lo saluto perciò oh non è andata io li posto per me oh raga 10 bomba questo lo ha caricato su youtube scarico questa raga ma per voi va bene se la carico su youtube? oh fra questa è una paura salimi mette raga mi si era porto l'inventore ma che siamo? 3 contro 3 contro 4 la te oh no che fai? bravo la max è buona grazie a te ragazzi ragazzi non troppo l'ho ragazzi non troppo l'ho guardate ragazzi non troppo l'ho e ora guardate l'ho che l'ho 3 v3 fatemi un fortino va no no vieni fai vieni aiuti vieni 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 ma io non ho capito dove stai sono pure i 6 dai vieni tra tra pure i 6 stanno raga raga ha eliminato uno cosa è accaduto arriviamo arriviamo quanti sta uno qua scusa vaga contro uno ma quanto siamo? 3 contro uno? si sta panferato si 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 è una è un vulcano il vulcano raga mi posso raga il vulcano è ruttato raga il vulcano è ruttato raga il vulcano mi rutta è questo oh raga e qua c'è un airdrop non la trovi è il vulcano che stava ruttando è vero il vulcano è vero il vulcano raga il da me mi hanno lasciato il viso si 12 kill vaga 12 kill raga raga in tutto abbiamo 16 kill perciò vuol dire che voi ne avete 2 a testa bravi raga come 4 ecco perchè dagli raga 12 kill questa va caricata su youtube come 5 non 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 Grazie a tutti